Pesaro, Ascoli e i sospetti di favoritismo da parte della regione Marche verso il Piceno. Si conclude una settimana di candidature marchigiane al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024 in cui il fronte politico ha finito per ridurre a paesaggio sullo sfondo quello programmatico. Il 22 gennaio Pesaro ha presentato la sua candidatura. Qualche giorno dopo Ascoli Piceno ha fatto altrettanto con il seguito dell'appoggio ufficializzato da parte del governo regionale. Apriti cielo, sono germogliati i sospetti pesaresi di favoritismo verso Ascoli, smorzati però dell'assessore regionale alla cultura Giorgia Latini che l'ha minimizzata a una mera questione formale. Ascoli aveva semplicemente inoltrato richiesta ufficiale non pervenuta da Pesaro. Ma Pesaro non è bastata come giustificazione a maggior ragione del fatto che la Latini figuri nel comitato tecnico d'appoggio ad Ascoli. Ora però l'assessore alla cultura di Pesaro Daniele Vimini cerca di spostare l'attenzione dal fronte polemico al piano operativo. Ma abbiamo detto più che altro che si è sembrato un po' sospetto nella tempistica. Abbiamo ricevuto oggi una lettera da parte della regione che non esplicita in maniera chiara il sostegno come ad Ascoli piuttosto che altro. Non sarei per portare avanti la polemica, lavoreremo con le nostre forze, osserveremo il progetto di Ascoli a cui facciamo i migliori auguri, con cui collaboriamo su tanti aspetti. Quindi per noi Ascoli è non tanto un competitor perché la sfida nazionale è una città importante di riferimento così come credo che noi lo siamo per loro, per altri elementi. Quindi sarà comunque un percorso di crescita per tutti. La regione farà le sue valutazioni, le sue scelte su come accompagnare i percorsi. Le regioni non sono l'alfa e l'omega di queste candidature. È chiaro che ci piacerà fare in modo che tutti si rendano conto di quanto questa sfida delle due città, di due città importanti che sono le uniche che fino ad ora non hanno preso parte questa competizione e possa essere un vero valore aggiunto per tutto il territorio promozionalmente verso il 2024.